E' più importante il rapporto, sempre che sia naturalmente ottimale, tra il medico e il paziente anziano. Lo è ancora di più, specialmente in questi mesi estivi. Marco Palma. L'estate è per loro il momento più difficile. Gli anziani sono spesso lasciati soli a se stessi. Hanno mille difficoltà, non sempre riescono a gestire la loro giornata. Da un punto di vista medico, se non hanno vicino una persona, familiare o vedante, possono dimenticarsi le terapie quotidiane o più semplicemente, non avendo lo stimolo della sete, di bere acqua per non cadere in disidratazione. Ecco allora l'importanza di un rapporto ottimale tra medico ed anziano. In questo senso è stato ossiclato un protocollo d'intesa proprio per provvedere ai bisogni di carattere medico delle persone della terza età tra federe anziani e i medici di medicina generale. Dunque, vediamo perché i medici di medicina generale scendono davvero prepotentemente in campo a fianco a federe anziani. Perché il singolo medico e il singolo paziente anziano, quando si ritrovano nello studio, a volte si trovano proprio di fronte alla difficoltà di vedere garantiti dei diritti che sembrano lapalissiani, chiarissimi, scontati, e da soli non ce la fanno. E quindi è necessario che l'associazione degli anziani e l'associazione dei medici lavorino insieme per decidere su cosa puntare e che cosa effettivamente pretendere nell'interesse naturalmente della salute degli anziani. Questa la proposta di Federe Anziani. Noi non possiamo essere tutelati se non dai medici di medicina generale. Questo è l'obiettivo comune dei medici di medicina generale e degli anziani italiani. Ed un importante appuntamento ci sarà a novembre. 4.000 medici e 6.000 delegati federe anziani a Rimini, al secondo congresso della Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute, per creare le nuove linee guide a favore della terza età per un sistema sanitario migliore e soprattutto sostenibile. E torniamo a parlare di calcio.